E' accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un decennio, il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sotto e contro ogni disegnazione del Parlamento. Mi sono richiutato di stravincere e potevo stravincere. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decidi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di unfancare il fascismo. Potevo fare in quest'aula a Torre del Grigia un divacco di manipoli. Potevo strangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascistico. Potevo. Ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Siamo proposti di dare una disciplina all'anzione e la daremo. Così, il Dio mi affinca nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica.